Ma a me non interessa, allora di Castori non voglio più parlare, finito, ho già fatto quello che dovevo fare, ho già dato quello che dovevo dare, sono Sannino, ho una mia idea di calcio, ho un mio modo di allenare, bisogna capire le difficoltà di questa categoria e credo che oggi il Carpi abbia fatto vedere di poter stare in questa categoria. La Serie B è una cosa, la Serie A è un'altra, chiaro? E io non sono la persona che va in campo sentendo, facendo e dicendo, sono una persona che va in campo facendo il professionista per il bene della squadra primis, della società e del pubblico. Se c'è qualche prevenzione nei confronti di Sannino, perché si pensa a quello che è stato fatto prima? Io non ho bisogno di stare qui a chiedere no, scusa, perché no? Io faccio l'allenatore e devo essere giudicato in modo educato e poi posso anche aspettarmi fuori, non è un problema, ma senza andare a vedere il dietro, il passato, dove veniamo, qui è un'altra storia. E stasera il Carpi, se siete onesti, ha fatto vedere di essere una squadra che è capace di stare in Serie A.